La banca centrale del Cairo svaluta la propria moneta, un abbassamento dell'1,3% nel cambio col dollaro che ora vale oltre 7,93 lire egiziane. Scelta quasi obbligata, spiegano gli analisti, dopo che la decisione nello stesso senso della Cina aveva messo sotto pressione gli altri paesi emergenti. È la terza volta dall'inizio dell'anno che l'Egitto ricorre alla svalutazione, con una perdita di valore che da gennaio tocca il 10%. Una posizione non facile quella della banca centrale, stretta tra la necessità di sostenere la lira per frenare l'inflazione, cosa che ha fatto a lungo dando fondo alle riserve di valuta estera, e la difesa della competitività delle esportazioni egiziane. La mossa è anche un tentativo per avvicinare il cambio ufficiale a quello del mercato nero.